E' stato venduto a Sala Consilina il biglietto del primo premio di 5 milioni di euro della Lotteria Italia, ma la Campania incassa anche il secondo premio da 2 milioni e mezzo, venduto a Napoli ed il terzo da 1 milione e mezzo acquistato a Pompei. Per il secondo anno consecutivo il biglietto del primo premio arriva da un'area di servizio, questa volta sulla Teresa Lenoreggio Calabria di Sala Consilina. Nel 2018 a festeggiare fu invece l'autogrill la macchia ovest di Anagni, nelle Frusinate. Difficile ancora una volta la caccia al vincitore, ma intanto nell'area di servizio hanno cominciato a stappare lo spumante per festeggiare la vincita milionaria. A Sala Consilina e Napoli arrivano anche due dei 50 premi di seconda categoria, quelli da 50 mila euro.